un punto più del Parma e Milano a conservarlo Susa Scaramuzzino, vantaggio del Benevento con la Padula dunque tredicesimo minuto Benevento 1 Crotone 0 è andato a coprire dopo la respinta del portiere ha preso palla ma ha esitato vicino a linea di porta, ancora Benevento in avanti la Padula in aria, tiro, pallone alto sopra la traversa ancora una grande parata da parte di Festa concluso da non più di 7-8 metri la posizione centrale, la Padula la grandissima risposta del portiere del Crotone che con il cross a basso, pallone per Pereira cross a basso ancora Simi, incredibile il pareggio del Crotone al 48esimo con Simi alla ventesima marcatura in campionato una doccia gelata davvero per il Benevento c'è stata un'azione davvero molto bella da parte di Dragus sull'out destra è andato via a due avversari c'è stato un primo assist a basso per il compagno di squadra per Pereira, il portoghese si è girato spalla da porta in area di rigore nuovo cross a basso pallone al centro del...